buongiorno oggi vi mostrerò come realizzare il disegno di un paesaggio sul legno con il pirografo innanzitutto bisogna lisciare il legno la tavoletta che si vuole utilizzare con della carta vetrata molto fine da 800 o da 1000 a questo punto si prende la carta carbone il disegno che si vuole riportare e con la matita si fa tutto il contorno cercando di andare a riprendere anche i minimi particolari una volta fatto il disegno si mette la punta sul pirografo si aspetta che sia caldo e si può cominciare a lavorare a Spero che vi sia piaciuto e vi aspetto per il prossimo video per imparare nuove cose sulla pirografia. Grazie a tutti!